Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scazzo Moderato. Oggi è 5 febbraio 2021 e vi parlo di Alexandra Ocasio-Cortez. Aspetta che muovo un po' il cellulare così lo vedete bene. Eccola. Allora, è una politica del Partito Democratico americano di cui si è parlato tantissimo in Italia. Infatti questo è un articolo dell'Huffington Post. Ma, per esempio, su Repubblica ne hanno parlato tantissime volte. Se andate sugli argomenti e cercate Alexandra Ocasio-Cortez, trovate un pacco di articoli che parla di lei. Anch'io, nel piccolo della rubrica Scazzo Moderato, ho parlato di lei alcune volte. Comunque è diventata molto famosa, è stata la più giovane a entrare al congresso nel 2018. Viene da una famiglia, diciamo, non povera, però comunque proletaria. Quindi, però, malgrado le difficoltà economiche, si è laureata, lavorava come barista. È una che comunque viene dal Bronx, figlia di un'immigrata portoricana. Quindi, diciamo, figlia di immigrati che entra al congresso. Un po' il sogno americano, no? Col duro lavoro, la tenacia e la costanza, è riuscita a raggiungere grandi risultati. Io ne ho parlato perché comunque è una persona su cui molti argomenti ho trovato interessanti, quindi ho condiviso alcuni suoi video su Scazzo Moderato, sia quando parlava, per esempio, di questioni legate all'ambiente o, per esempio, una questione molto importante. Aveva fatto un video, l'ho pubblicato circa un anno fa, forse anche un anno e mezzo, in cui parlava del finanziamento delle grosse corporation americane alla politica. Il circolo che c'è fra le corporation che finanziano la politica e poi la politica che ovviamente deve ritornare indietro il favore, facendo leggi a favore delle grosse aziende multinazionali rispetto magari a piccole imprese, era una cosa molto interessante, quindi l'ho pubblicato. Pertanto, voglio dire, nessun pregiudizio nei suoi confronti, anzi un giudizio positivo, inizialmente. Ultimamente, visto che questa rubrica, essendo anche che io abito all'estero, ha più senso se parlo di cose legate all'estero, ultimamente si occupa molto di estero. Seguendola ho anche visto alcune sue uscite che, diciamo, non erano molto gradite. Una l'ho condivisa dopo le elezioni americane, quando si è venuta fuori dicendo che, secondo lei, bisognava fare una lista di tutti quelli che hanno lavorato alla Casa Bianca, renderla pubblica in maniera che non possano mai più trovare lavoro in uffici pubblici o comunque in qualsiasi posto d'America. Cioè una persecuzione vera e propria, una lista di proscrizione proposta da una di sinistra. Io mi ricordavo che era una cosa da fascisti, le liste di proscrizione invece evidentemente anche a sinistra piacciono. Parole sue, ricordate sempre io commento proprio le parole esatte. O, ultimamente l'ho anche sentita dire, ci sono ben 74 milioni di americani che hanno votato per Donald Trump, queste persone vanno riprogrammate. Cioè fondamentalmente lei, ma non solo lei, ci sono molti democratici convinti che bisogna aprire dei centri di rieducazione affinché vengano riprogrammati, la parola che usano è esattamente questa, riprogrammare questi 84, 74 milioni secondo loro di pazzi furiosi, perché se uno ha votato Trump deve essere evidentemente un malato mentale e siccome loro sono buoni ti creano dei campi di concentramento, ah no scusate, dei centri di rieducazione dove tu puoi imparare a non essere più un trampista. Ma arriviamo alla notizia vera e propria, ovvero quello che è successo un paio di giorni fa, che in America è diventato virale e si sta creando un casino su questa cosa incredibile, è meraviglioso e ne ha parlato anche Repubblica. USA, Ocasio Cortez in diretta su Instagram, io vittima di un abuso sessuale. Ora, un paio di giorni fa, Alexander Ocasio Cortez ha fatto un video su Instagram di un'ora, di un'ora, ricordiamoci che questa è una che ha milioni di followers, ok? Solo la sua diretta di un'ora ha avuto 150.000 contatti in quel momento, più di quelli che l'hanno vista dopo, fra con delle visioni varie eccetera, quindi avrà fatto milioni di visualizzazioni, in cui lei in quell'ora non è che parlava solo di questo abuso sessuale, in realtà parlava di tutta la sua esperienza e qui è questa immagine, mi fermo su questa immagine perché ce ne abbiamo, tutta la sua esperienza durante le manifestazioni che ci sono state al congresso degli Stati Uniti il 6 gennaio quando è stato dichiarato ufficialmente presidente Joe Biden, come sapete c'erano stati quei fulminati che c'era stata una manifestazione di piazza fuori, ok? Con 10-20.000 persone. Manifestazione, diciamo, normale come succede tante volte, gente fuori incazzata che urla, c'ha i slogan, i cartelloni eccetera. Di queste migliaia, decine di migliaia, 20.000 al massimo, non di più, non era una manifestazione oceanica da 20 milioni di persone, erano forse 20.000. 800 invasati hanno fatto irruzione dentro quella che viene chiamata Capitol Hill, che è praticamente la sede del congresso. Avete visto le immagini, ci sono stati morti, ne abbiamo parlato, tutto quanto. Perfetto. Allora lei ha fatto un video per dire quanto si è sentita minacciata che lei l'ha chiamata Experience Near to Death Experience, ovvero un'esperienza vicino alla morte, perché lei ha sentito che in quel momento la sua vita era in pericolo, perché effettivamente c'erano questi rioters. Ecco, vedi, lei qui sta raccontando che lei si è nascosta in bagno dietro la porta, come la porta è, stava contro il muro e sentiva fuori tutto il casino dei dimostranti. E addirittura uno è entrato nel suo ufficio urlando dove è lei, dove è lei? E lei a quel punto ha capito, ah, qui sono arrivata alla fine. Però se muoio, quantomeno ci sarà qualcuno che porterà avanti il mio messaggio. Un video da praticamente, non so, tipo Gandhi, cioè proprio il salvatore dell'umanità, che ormai ha portato il suo messaggio all'esterno e i suoi seguaci continueranno, perché lei è ormai arrivata alla fine. Quindi, gran chiacchericcio, guardate, l'esperienza drammatica dell'Ocasio-Cortez che stava per morire a gritte da questi fascisti suprematisti bianchi, dei trampisti, entrati lì perché Trump li ha convinti tra lì che la volevano uccidere. Poi però qualcuno ha iniziato a dire certe altre cose, le cose come stanno veramente. Ovvero, numero uno, che il complesso di Capitol Hill è fatto di vari building e dove c'è la sede del congresso non ci stanno tutti gli uffici. Incluso, fra quelli che non ci sta, quello di Alexander Ocasio-Cortez. Lei non era fisicamente nell'ufficio che è stato invaso dagli 800 dimostranti. Ci sono altri due uffici, scusate, altre due strutture. Una di queste si chiama Cannon Building, probabilmente ai tempi di George Washington ci tenevano i cannoni. Al Cannon Building ci sono gli uffici, fra cui anche quello di Ocasio-Cortez. E non è mai stato invaso dai dimostranti. E questa cosa qui è iniziata a venire fuori perché alcuni senatori repubblicani, perché ovviamente i democratici sono stati tutti zitti, mentre su tutti i giornali americani si diceva, ah, l'Ocasio-Cortez ha avuto un'esperienza vicino alla morte, colpa dei cattivi repubblicani, eccetera. Qualcuno ha detto, guardate che lei non era lì, perché il suo ufficio è da un'altra parte. Qualcun altro che ha l'ufficio di fianco al suo, la senatrice Mace, ha detto, guardate che io ho l'ufficio di fianco, non si è visto nessuno. L'unica gente che si è vista a un certo punto sono stati alcuni poliziotti che sono venuti a prelevarci per portarci fuori. E infatti la persona cattivissima che voleva aggredire Ocasio-Cortez per ucciderla, urlando dove è lei, dove è lei, che lei ha detto ho sentito qualcuno nel mio ufficio gridare dove è lei, un invasato, in realtà era un poliziotto che stava cercando l'Ocasio-Cortez perché stavano mettendo in atto il piano di evacuazione dell'edificio. Cioè lei ha raccontato tutta una storia, no? Del casino fuori, dei dimostranti, eccetera, quando in realtà lei non era lì, lei non era, non c'è il suo ufficio da un'altra parte. È una roba di una tristezza infinita. Di nuovo, di nuovo, è la cultura del vittimismo per cui se sei vittima, vittima uguale a eroe. Quindi lei ha fatto il video di un'ora dicendo che ha avuto un'esperienza vicino alla morte, ricordando il fatto che questo trauma le ha riportato alla memoria quando è stata assalita sessualmente. Il concetto di essere assalita sessualmente è molto largo, perché stupro è stupro. Assalto sessuale può essere considerato anche un uomo che ti mette una mano sul culo, quindi bisognerebbe capire cosa intende lei, soprattutto viste le sue reazioni, potrebbe essere uno che ha detto sai che oggi sei carina e questa è andata fuori di mela, ha detto quello mi ha assalito sessualmente. Ma non è finita qui. Magari fosse finita qui. Perché? Cosa è successo? Che praticamente, ovviamente tutta la destra americana ha iniziato a prenderla per il culo. Sono andati gli hashtag su Twitter. Qui viene veramente la parte grave, ok? Perché finora lei poteva dire guardate, io avevo paura. Quello è un sentimento soggettivo, non si può negare. Io avevo paura per la mia vita. Sì, è vero, io non ero lì, però comunque fra l'altro sono sei minuti di cammino, sei minuti contati. Ci sono dei tunnel sotterranei, a parte il fatto che non passerà mai nessuno da quei tunnel sotterranei, perché sono super sigillati e super controllati, sono più poliziotti sotto terra che sopra, quindi vabbè. Però, diciamo, in linea teorica, poteva anche essere che a un certo punto questi ribelli sarebbero arrivati lì, questi pazzi furiosi, il tipo da sciamano arrivava lì per darle un'incornata, lo sciamano, avete presente lo sciamano che è entrato dentro Capitol Hill? Quindi avevo paura. È il mio sentimento e nessuno avrebbe detto niente. Invece lei ha rincarato la dose. Ha mandato un'email a tutto il suo milione e mezzo di indirizzi email registrati sul suo sito o sui social media, eccetera, dicendo, ah, la destra sta facendo disinformazione, dicendo che io ho mentito e pertanto vi chiedo a tutti di fare pressione su Twitter affinché cancelli, perché Twitter in America è il social network media, scusate, social media numero uno per la politica. Tutti i politici sono su Twitter, tutti quelli che parlano di politica ne parlano su Twitter. E per affrontare gli argomenti ovviamente ci sono gli hashtag, quindi, non so, hashtag transgender, dove tutti parlano di transgender, hashtag Iran, tutti parlano del programma nucleare iraniano. E lei ha detto, dovete fare pressione su Twitter perché venga cancellato e rimosso e bandito per sempre l'hashtag Alexandro Casio Cortez lied, ovvero ha detto bugie, e Alexandro Casio Cortez smollet, che per riportarla a un caso vecchio di cui fra l'altro ho parlato qui, di un attore famoso che ha finto di essere stato aggredito. Guardate che è una cosa molto grave, cioè non solo tu hai raccontato una storia completamente campata per ario e sei stata beccata e fatta una figura di merda, ma tu stai chiedendo a tutti i tuoi followers, invece che chiedergli scusa o aver detto, vabbè, forse ho esagerato, però io mi sentivo così, quindi girarla e chiuderla lì, no, tu rincari la dose. Tu vuoi, ed evidentemente sei convinta di poterlo fare, controllare l'informazione affinché chi ha spiegato le cose come stanno, ovvero il fatto che tu non sei, non eri in quello stesso palazzo, perché sei in un palazzo separato, quindi non è vero che c'era gente nel corridoio e non è vero che qualcuno è entrato nel tuo ufficio perché ti voleva uccidere, ma era un poliziotto che ti voleva portare fuori. E tu vuoi controllare questo, attenzione, perché chi controlla i social media oggi e specialmente nel prossimo futuro è chi controlla la realtà, perché in un futuro in cui molti di noi lavoreranno da casa, i contatti umani, diretti, il parlare fra una persona e l'altra avrà sempre un medium nel mezzo, non c'è più ci vediamo per la pausa sigaretta in azienda e ci sono altre dieci persone che si fanno due chiacchiere, poi quelle dieci persone magari fanno altre chiacchiere e nel frattempo controllano gli eventi se effettivamente è successo o no. No, tutto verrà filtrato dai social media e i social media in America sono tutti schierati con la sinistra ed è per questo che Ocasio-Cortez sa di poter fare pressione su delle aziende multinazionali che hanno già dimostrato in passato di essere totalmente dalla sua parte. È uno scenario terribile, è uno scenario da dittatura comunista come poteva essere l'Unione Sovietica, come può essere ancora la Cina e questo sta succedendo oggi in America per mano di gente che si dice di essere dalla parte del popolo, che dice di essere dalla parte dell'anestà, della trasparenza, eccetera. È l'esatto contrario.